Professor Martinelli, un confronto tra la scuola di ieri e la scuola di oggi, a 50 anni dalla morte di Don Milani, in due passaggi. Quali sono le differenze più evidenti? Diciamo che la scuola di ieri presentava un carattere classista, di fatto allontanava i figli dei poveri, operai e contadini e privilegiava quelle categorie che avevano più risorse e quindi c'era non una dispersione scolastica, ma proprio un rifiuto di quello che noi oggi chiamiamo la scolarizzazione di massa. Però bene o male i contenuti che proponeva erano funzionali al contesto di allora. Oggi il problema secondo me è più grave, se solo partiamo da quello che è l'indagine conoscitiva coordinata da Tullio De Mauro, il famoso analfabetismo di ritorno, dove riscontriamo che l'80% degli italiani non è capace più di intendere un testo mediamente complesso. Si potrebbe dire che non sa più leggere e scrivere. Questo ovviamente va a scapito dei livelli di democrazia partecipativa, perché come giustamente diceva e ci insegnava Don Milani, diciamo che sì, è importante il diritto allo sciopero, il diritto al voto, il diritto di parola, tutto ciò che la Costituzione ci garantisce. Però se il livello culturale del cittadino è basso, è logico che non c'è la capacità di interpretare la realtà. Nato a Roi, in provincia di Milano, nel 1950, Edoardo Martinelli frequentò la scuola di Barbiana dal 1964 al 1967, e seguendo il metodo della scrittura collettiva fu uno degli otto ragazzi che insieme a Don Milani scrissero il libro Lettera a una professoressa. Ha vissuto accanto al celebre educatore, priore della scuola. Per lui Don Milani non fu solo una figura innovatrice nel panorama educativo negli anni 50-60, ma un maestro, un predicatore anomalo che forniva all'allievo gli strumenti per apprendere a modo proprio, a sua misura, a partire dall'esperienza che può compiere direttamente tutti i giorni. Io ricordo per esempio il messaggio ultimo che lui ci ha dato prima di morire, nella vita mi hanno perseguitato, da morto mi esalteranno, però voi difendetemi da ogni sorta di mistificazione. Questo secondo me voleva dire cercate in qualche modo di far capire il messaggio vero, e il messaggio vero non è quello più ideologizzato. Sì, c'è l'amore per gli ultimi, però l'amore non basta. C'è un monello, non è che si rivolge a un educatore solo perché l'educatore lo ama. È logico che dietro c'è un progetto intelligente. Il tentativo che stanno facendo questi ragazzi di Foggia è proprio quello di liberare il priore di Barbiana da queste intercapedine e far emergere la vera pratica di insegnamento.